alpe lago val malenco si sale per primolo strada primolo chiusa per caduto a sassi andiamo bene al primo tornante per primolo si prende a sinistra alpe lago quota 1150 20 25 30 per cento e andiamo lassù ogni curva non spiana mai qua sempre ripida alpe lago discesa mai fatta prima vediamo se è fattibile tutta in bici spettacolo a 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 grazie prego prego precedenza i pedoni bel sentierino montano bel sentierino montano le pietre viscide le pietre viscide interessante molto interessante qua dove andiamo di là così inter non sta in piedi non si sta in piedi ragazzo non si sta in piedi c'è un vicido non si sta in piedi ma dove tutte le pietre viscide qua sembra un pelo più asciutto vediamo com'è insomma anche qua ce n'è di punti incazzati eh ce n'è di punti incazzati qua ce n'è molti punti incazzati guarda qui che passaggi guarda che cazzo di passaggi come la situazione qua situation tosta molto tosta cazzo molto tosta adesso siamo di nuovo nel vicido tanto per io questi punti qua li odio ma li odio proprio un bel posticino da da morte velocità media 5 all'ora 5 all'ora cazzo qua ci sarà un bel pezzo brutto sicuro e difatti due bei tornantini cazzuti molto cazzuti molto cazzuti ma hanno sbressato anche qua qua che bello questo molto molto duro però eh molto tecnico da farsi del gran male qua molto tecnico molto tecnico sti cazzi qui ci passi al pero con i pedali qui ci passi al pero con i pedali cazzo cazzo che sentierino da morte oh sentierino da morte no c'è problema ciao 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 bene più interessato alla natura che a me più interessato alla natura che a me si prego signora ma in cima al lago si un po' di gentina venti persone venti sono tante sono di nuovo nella zona dove è bagnato pietre pietre scivolosissime bello questo dritto qua non vale piante molto bello e e e e e dove andiamo e dove cazzo andiamo che tosto sto sentiero sti cazzi oh e minchia se è tosto mega mega tosto cazzo mega mega tosto oh oh yeah pop ciao ciao oh ah 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 un po di shortcut con un bel nose press qua ok ok . 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 Qua è tricky Qua è tricky ed è molto esposto Guarda qua Va bene la confidenza Ma E' meglio anche ogni tanto Hey Hey Yeah boy Nasty Ah Hey Ok Oh questo era tecnico, questo era tecnico, grande bici, spettacolo, alla prima senza averlo mai visto l'accio chiesa andiamo alla base bici della giornata, la solita, dune custom 29 metri 30 di interasse, 63 di sterzo, 10 di pipa, movimento 35 e 3, 35 e 4 da terra, ruote drc, double barrel, metzer, 12 kg e mezzo spettacolo, anche nel lento va veramente da dio, nel lento e nello stretto, ciao a tutti